cari amiche e cari amici di total photoshop bentrovati sono la cri e rieccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial di indesign ma nella settimana dell'horror ecco perché a questo giro vediamo come realizzare un effetto liquido sul testo e anche sullo sfondo che lo ospita per l'occasione abbiamo simulato una sorta di sangue ribollente magari perché no in un pentolone di un astuta strega che sta preparando chissà quale pozione magica beh bando alle ciance entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata e vediamo come ho realizzato questo effetto quindi per l'occasione selezioniamo tutto e eliminiamolo andiamo a creare immediatamente uno sfondo che possa occupare anzi ospitare questo bel effetto diamogli un bel colore per l'occasione ho creato un rosso abbastanza scuro vedete questi sono i valori di rgb che appunto gli ho dato perché ho creato un documento per il web dopodiché creiamo ovviamente il box di testo dove andremo a scrivere la parola blood fantastico come andrà per evidenziarlo tutto andiamo a scegliere una fonte che per l'occasione e visto che parliamo di horror penso che un bel comics sans sia proprio l'ideale e ovviamente gli diamo una dimensione dignitosa per il nostro lavoro ah dimenticavo non poniamo limiti all'orrore e diamogli anche un bel bold come effetto voilà che il nostro testo è fatto per dargli tutto il nostro bell'effetto che sembra emergere da un ribollir di sangue dobbiamo scegliere un colore rosso che sia leggermente più chiaro rispetto a quello dello sfondo che lo ospita ecco qui il rosso che ho salvato appositamente per questo effetto cosa dobbiamo fare per realizzare questo bel effetto la parola effetto non è mica qui a caso infatti andiamo nel menu finestra apriamo il pannello degli effetti e con un doppio clic sull'oggetto iniziamo a lavorare sul nostro bel testo ebbene sì perché solo quando chiuderemo questa finestra sarà fatto il nostro bel effetto e infatti visto che continuiamo con gli orrori continuiamo anche con le parole orrende una vicino all'altra occupiamoci immediatamente di smusso ed effetto rilievo diamo a questo smusso una dimensione decisamente più grande di quella di default proposta da InDesign direi che 30 potrebbe essere forse anche 20 va bene aumentiamo l'altitudine e la portiamo magari ci muoviamo e guardiamo che cosa succede al nostro testo in modo da poter scegliere ecco l'effetto che più ci può soddisfare 80 gradi può essere l'ideale e riduciamo anche l'angolo scendiamo a meno 30 per l'occasione vediamo che cosa succede fantastico diamo al colore dell'ombra di questo smusso ovviamente il colore rosso scuro che abbiamo usato per il nostro sfondo diamo un bel ok e interveniamo sull'opacità della luce riflessa in questo caso quindi gli diamo un bel cento per cento voilà guardate che bell'effetto proprio tipo liquido che sta già venendo fuori dalla nostra scritta bene gli altri valori li lasciamo così come di default ce li mostra appunto in design quindi lo smusso interno una tecnica arrotondata e la direzione appunto in alto del nostro smusso ed effetto rilievo andiamo ad occuparci ora dell'ombra esterna quindi con un semplice flag poi evidenziamo la scritta dell'ombra esterna andiamo a lavorare proprio su questa allora innanzitutto cambiamo il colore con un semplice clic sul quadratino nero andiamo a scegliere il nostro bel rosso di sfondo ok scendiamo con l'opacità e da 75 di default lo portiamo a un 43 mi sembra un'ottima soluzione la distanza la portiamo a zero così la nostra ombra si posizionerà esattamente dietro al nostro testo dopodiché lavoriamo semplicemente sulla dimensione quindi selezioniamo i 5 pixel e ci muoviamo con le freccioline della nostra tastiera così ci muoviamo di un pixel alla volta se vogliamo fare passi un pochino più giganti teniamo premuto shift e andiamo avanti di 10 punti alla volta una dimensione di 30 pixel mi sembra più che dignitosa e per l'occasione andiamo anche ad aggiungere abbondanza positiva questo permette di rendere molto più evidente come avete notato la nostra ombra al di sotto del testo diciamo che un 30 per cento anche in questo caso va più che bene ora che ci siamo occupati anche dell'ombra possiamo andare ad interpellare il bagliore interno voilà come bagliore interno innanzitutto scegliamo un metodo di fusione normale e anche qui andiamo a scegliere il nostro bel colore rosso di fondo ok aumentiamo l'opacità e lo portiamo al 100 per cento lasciamo una tecnica tenue e come sorgente del bagliore ovviamente il bordo e non il centro della nostra scritta e diamogli semplicemente una dimensione un pochino più grande 20 pixel va benerrimo aumentiamo anche in questo caso l'abbondanza negativa quindi andiamo a confondere ancora un pochino di più questo bordo andando ad aumentare l'effetto di chiaroscuro che c'è all'interno del nostro testo ora che abbiamo ragionato anche sul bagliore interno non ci rimane che fare un semplice click sul contorno sfocato di base al quale lasceremo ovviamente tutti i valori che ci indica il nostro buon in design di default diamo un bel ok e voilà che l'effetto sul nostro bel testo è fatto ovviamente se non siete soddisfatti pienamente dell'effetto basta selezionare il vostro testo con un semplice doppio click alla voce effetti anzi sul pannello degli effetti potete andare a modificare tutti quei settaggi che gli avete dato fino ad ora ma annulliamo questo passaggio e occupiamoci delle bolle del sangue tutto intorno al mio bel testo come fare semplicissimo andiamo a selezionare lo strumento box ovviamente circolare in questo caso creiamo un perfetto cerchiulino e lo facciamo trascinando lo strumento tenendo premuto il pulsante shift diamo un colore di fondo come il nostro testo quindi con il nostro bel rosso più chiaro e cominciamo nuovamente a divertirci con i settaggi degli effetti partiamo da smusso ed effetto rilievo vi ricordate gli diamo una dimensione abbastanza ampia gli diamo un angolo pari a meno 30 gradi e quello che genera maggiormente l'effetto è ovviamente l'altitudine quindi saliamo con l'altitudine di questo smusso dopodiché scegliamo come colore dell'ombra dello smusso il nostro bel colore di fondo ok e aumentiamo l'opacità della luce voilà occupiamoci ora dell'ombra esterna anche qui andiamo a scegliere il nostro bel rosso di fondo attenuiamo l'opacità dell'ombra e lo portiamo intorno al 40 per cento ok una distanza a fare a zero così si posiziona esattamente dietro la mia bella bolla e anche qui aumentiamo la dimensione della nostra ombra a dandogli anche una maggior abbondanza positiva pari quasi alla dimensione anzi lo facciamo così perfetto in modo che sembri leggermente più scuro tutto intorno occupiamoci del bagliore interno andiamo a scegliere anche qui il colore del nostro bello sfondo scegliamo un metodo di fusione normale in modo che si possa scurire maggiormente intorno al bordo ovviamente la sorgente è quella del bordo aumentiamo la dimensione lo portiamo a 30 va benissimo e diamogli anche una maggiore abbondanza negativa pari quasi a quella della dimensione in modo che si possa scurire ben bene tutto intorno al mio cerchiolino ultimo ma non appunto per importanza è il flag su contorno sfocato di base che attenua proprio tutto il bordo del mio cerchiolino regalando proprio la sensazione di essere una bolla che viene su da quello sfondo al quale lasciamo tutti i valori di default impostati dal buon in design diamo un bel ok e voilà che la nostra prima bolla è fatta per crearne delle altre semplicemente teniamo premuto il tasto opzione o alto della vostra tastiera e andiamo a duplicarle a posizionarle un po dove ci pare e ci piace ovviamente le possiamo anche modificare di dimensione in modo che creino questo effetto di ribollire tutto intorno al mio testo e voilà che posso continuare a divertirmi con questo bell'effetto orrendo fatto sul testo e sul suo sfondo come detto prima per il testo anche per gli oggetti se non siete soddisfatti dell'effetto raggiunto potete continuare a manipolarli semplicemente selezionandoli facendo un doppio clic nel pannello degli effetti andando a modificare tutti i settaggi che gli avete dato fino ad ora anche per questo giro per questo orrendo giro potrebbe essere tutto non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi ciao a tutti e alla prossima della CRI